Allora, a più di tre mesi di distanza dall'ultimo approfondimento popsofico che riguardava l'illuminismo, riprendiamo questa rubrica e questa volta parleremo del filosofo ginevrino Jean-Jacques Rousseau. Nel pensiero russoiano possiamo trovare le origini di molte, molte idee che hanno segnato lo sviluppo del dibattito, del pensiero successivo, oltre a entrare profondamente anche nel senso comune. Bisogna tenere conto che il suo contratto sociale fu una diretta e importantissima fonte di ispirazione per alcune delle figure della rivoluzione francese, su tutte l'ala giacobina capitanata da Maximilien de Robespierre. Il suo appello al sentimento inoltre si rivelerà uno dei punti di riferimento del nascente romantique, movimento romantico. Ma quali elementi del suo pensiero sono ancora attuali? Allora, in filosofia non tanti, le tesi russoiane sono d'effetto ma poco difendibili nella forma in cui le presenta appunto Rousseau. Laddove l'eredità del filosofo invece è decisamente salda, è appunto, come abbiamo già detto, sul piano del sensus communis. Le sue idee sull'educazione, sulla famiglia, sulla saggezza di cui sarebbero depositarie le culture meno progredite tecnologicamente oggi sono banali, scontate, appunto, in virtù del loro, ciò nonostante duraturo, successo. Rousseau inoltre è l'autore delle confessioni laiche opposte alle confessioni religiose di Sant'Agostino. Le confessioni di Rousseau sono la prima moderna autobiografia in cui viene esaltato il valore della sincerità e della spontaneità. In questo senso l'opera è servita anche da modello dal personaggio genio e sregolatezza smisurato tanto nei pregi quanto nei difetti. Anche se dobbiamo naturalmente convenire con Galimberti che forse i libri più falsi in assoluto, più soggettivi in assoluto, sono appunto le autobiografie, le confessioni, perché si sa che qualsiasi scrittore prima di essere scrittore è un essere umano e quindi in piazza, insomma, non la si racconta mai tutta, nella Corano la si racconta mai tutta, in piazza si mente quasi sempre. Guardate, nei social, certo, quello che scrivono le persone nei social raramente è il loro vero pensiero. in piazza si mente sempre. Quindi un'autobiografia, cioè io che scrivo la mia vita, è chiaro che sarò sempre tentato dal condire, dal farcire questi eventi biografici con mie interpretazioni, mie letture della realtà e anche in un certo qual modo per far uscire bene la figura del personaggio autobiografato. Non vediamo mai le cose per come sono, ma le vediamo sempre per come siamo. Questa tematica dell'amore che sconfigge le convenzioni sociali non basterebbe un video di sei anni, quindi per venirvi incontro parleremo più precisamente del mito del buon selvaggio, uno dei miti fondanti della cultura contemporanea. Gli antecedenti si possono citare i cosiddetti poeti dell'Accademia dell'Arcadia, fondata nel 1690, tutt'oggi esistente, il cui capostipite è stato Jacopo Sanazzaro con il suo mondo di pastorelli e pastorelle innamorate e sensibili. Ma la testimonianza, senza dubbio, che più icassica in un certo senso la si può trovare nel parco della regia di Versailles, completata, ricordiamo, ai tempi, mortata al massimo splendido dei tempi di Luigi XV, poco ricordato, ma fu importante soprattutto anche per il massimo pasto di Versailles, dove appunto la giovanissima Maria Antonietta, moglie però di Luigi XVI, fece costruire appunto un villaggio in miniatura dove poteva serenamente giocare alla pastorella in compagnia della sua corte. Questa cosa può far sorridere, su Maria Antonietta ci sono sempre molti giudizi contrastanti. Vi rimandiamo al buon film della Sofia Coppola interpretata da Kingston Dust che restituisce abbastanza bene gli spiriti e gli umori della regina e possiamo ridere di questa voglia di giocare alla pastorella, ma in realtà oggi facciamo serenamente lo stesso. Ancora oggi ci sono persone che se ne vanno, scappano dalla pazza folla, se ne vanno a abitare in campagna dove prendono un pezzetto di terreno e lo coltivano e vivono come dire con i ritmi della stagione per quanto si possa fare oggi ovviamente, oppure ripeto anche tutta la cosa dei cosplayer che prendono i loro beniamini e cercano di riprodurli nella realtà vestendosi come loro. Cosa c'è entre i cosplayer? No, semplicemente siamo nel campo dei gusti, ognuno se la racconta come preferisce. se poi ci spostiamo sul versante artistico posteriore a Rousseau possiamo arrivare naturalmente al caso più eclatante del personaggio di Tarzan creato nel 1912 dalla prolifica penna di Elgar Rice Burroughs che morirà nel 1950. Tarzan con Jane Cita è protagonista di innumerevoli pellicole cinematografiche una delle addirittura una con Christophe Lambert che fa del 1983 che fa una specie di Tarzan Greystock il signore delle scimmie un film che non è più stato mostrato anche pochi passaggi televisivi ma insomma parla anche quello del mito del buon selvaggio e poi un altro caso invece qui arriviamo in Italia sotto il sole della Toscana 2003 diretto da Audrey Wells dove c'è anche un insomma ci sono anche attori famosi c'è un cameo di Mario Monicelli che fa un vecchio scapolo anche lì a tenerezza è il piacere di vedere Monicelli anche se sono in un cameo e anche qui insomma c'è questa scrittrice scornata che ritrova americana che ritrova in Toscana gli antichi ritmi della natura della campagna degli autoctoni che sono contadini abituati a vivere con ritmi più lenti poi c'è anche sette anni dopo viene fatto da Murphy a Ray Murphy Mangia Pregama questo dove c'è un film assurdo dove Julia Roberts addirittura trova i buoni selvaggi nel centro di Roma la vita delle buoni selvaggi nel centro di Roma scopriamo che non c'è che per farsi un bagno non è arrivata l'acqua calda e si è costretti a scaldare l'acqua sul fuoco forse oggi sarebbe difficile addirittura trovarla l'acqua naturalmente nonostante siano privi dello scaldobagno i selvaggi italiani hanno ottimi rapporti con il cibo e naturalmente con la mamma per riallacciarsi a una delle fonti di ispirazione di Rousseau si consiglia di compiere un crescendo attraverso una galleria di nobili selvaggi che parte dall'ultimo dei Moicani di John Fenimore Cooper pubblicato nel 1826 poi si fa un salto di più di un secolo si arriva al pluripremiato Balla con Lupi di e con Kevin Costner fino al mito del buon selvaggio 2.0 con Avatar di James Cameron questi alienoni colorati del pianeta Pandora sono veramente il top del top del buon selvaggio addirittura in perfetta armonia con il cosmo per concludere due riferimenti alla cultura del settecento sulle teorie pedagogiche di Rousseau i suoi influssi il film che vi consigliamo nel ragazzo selvaggio nel 1970 dove parla appunto siamo a fine settecento nella Veylon in Francia viene ritrovato questo ragazzo Victor che non parla ringhia morde e viene messo in un centro per recupero di persone disperate un centro all'epoca potremmo parlare nell'epoca al centro dei sordomuti in Francia invece come dire animato da questo ottimismo pedagogico il medico Itard se lo porta a casa insieme alla sua fatto appunto da Truffaut insieme alla sua collaboratrice domestica cercano di addomesticare questo Victor questo ragazzo che poi a un certo punto mostrerà naturalmente un ritorno alla natura con degli istinti delle tensioni uno strebel strebel di libertà naturalmente poi c'è anche il romanzo epistolare pubblicato nel 1740 di Samuel Richardson Pamela or Virtue Rewoet Pamela o la Virtù Premiata in realtà sono due romanzi epistolari ma il secondo Pamela non mi ricordo il titolo ebbe successo come anche questo Pamela o la Virtù Premiata ma il secondo è ritenuto un'operazione minore questo libro che appunto dice che parla attraverso Pamela questa ragazza che ha servizio nella famiglia di Lady B che viene concupita una ragazza appunto piena di moralità piena di buoni propositi che per certi versi ricorda anche soprattutto quando viene concupita dal figlio di Lady B che tenta addirittura per ben due volte di stuprarla poi per convincerla a cedere perché lui si innamora di lei per convincerla a cedere la rinchiude 40 giorni in una in una prigione salvo poi alla fine capire che forse con la gentilezza e le buone maniere come dire è più impattante rispetto ai metodi brutali iniziali io no parlo assolutamente Mr. B è il selvaggio rovesciato dall'essere selvaggio invece a essere un cittadino ragionevole e amorevole ha più successo e sembra quasi appunto di rivedere la il personaggio tratteggiato da Alessandro D'Alessandro Manzoni è Lucia appunto questa che non vuole essere non vuole cedere alle pretese nobiliari e rapaci di Don Rodrigo ma addirittura pur di non concedersi quando è prigioniera dall'inominato merita medita addirittura il suicidio probabilmente c'è un influsso di questa Pamela di Richardson ebbe un eco talmente grande dato che nonostante il romanzo espistolare fosse nato in Francia però Richardson gli dette un impulso notevole e di grande riverbero in Europa e non solo siamo tornati quindi all'approfondimento hip hopsofici dove cerchiamo di unire storia della filosofia motivazioni filosofiche e effetti audiovisivi cinematografici cerchiamo di raccontare quali sono i legami fra le opere scritte e le opere filmate e le opere musicali e le opere e i romanzi se vi interessano questi contenuti vi esortiamo a seguirci ad iscrivervi al canale e a mettere e a lasciare un like e naturalmente graditissimi i commenti qui sotto leggete sempre quello che c'è scritto in box perché spesso e volentieri mettiamo anche degli approfondimenti con dei link di altri contributi su youtube e anche indicazioni e approfondimenti di lettura grazie e alla prossima